I had the chance of meeting Gabriele many, many years ago, and he understands all these techniques. He has got a fantastic school, Charleston. What you're about to experience is another great adventure in drumming. Let's have a great round of applause for Gabriele, come on, here we go. Here we go, come on. Fantastic, we're going to go. Go get him, go get him. Ciao amici di Music Off, oggi per questa prima uscita, questo primo appuntamento mensile, vi ho portato in un posto incredibile con delle persone incredibili. Siamo al drum show, al caffè letterario, dietro di me sta parlando Corrado Dado Bertonazzi con la sua clinic sul music business. Abbiamo fatto questo evento insieme a un guru della didattica mondiale, che è Don Famularo, un ambasciatore delle tecniche di batteria più importanti, come la Miller, la Gladstone. Lui le ha apprese direttamente alla fonte. Ci siamo ritrovati io, Massimo Russo, oltre ovviamente a Dom, Corrado Bertonazzi e Tommaso Sansonetti, in una giornata didattica dove ognuno ha detto la sua, in un clima di empatia insieme a tantissime persone intervenute da ogni parte d'Italia, isole comprese sia Sicilia, Sardegna, Svizzera. Un'esperienza esaltante perché si sta cercando di portare la didattica a un livello veramente alto. I travel around the world to about 15 countries every year. Ogni anno io giro per almeno giro il mondo in 15 paesi. And it amazes me that when I travel around the world, I meet so many wonderful drummers. And drummers have these kinds of masterclasses. Only drummers do this. Guitar players, they don't do this. Bass guitar, they don't do this. Piano, no. Drums, si. They do this all the time. Triplets. Triplets was like this. This happens now. German position. Whip-tap-tap. Whip-tap-tap. Try that. Whip-tap-tap. Whip-tap-tap. Whip. toothbrush-tap-tap. Fish, and pitcher the wh up. Trip. Swiss, shoved it all the time she wants to give it a breakfast. Apostate in the finish. First of all, let's go. Frustra. Twist. Constate in the dresponsuum. One, two, three, four, five. Go, amico! Sono felice di essere a Roma. Devo ringraziare veramente Gabriele Morcavalo, la Charleston, perché stiamo facendo una cosa insieme bellissima. Cioè stiamo cercando di creare condivisione e di portare la didattica a un livello superiore. Quindi abbiamo invitato il numero uno della didattica, Don Famularo. Quindi è una cosa veramente straordinaria vedere tutti questi batteristi romani insieme, giovani, le ragazze, gli appassionati. Io sono promotore di questo evento, ho trovato in Gabriele un supporto importante. Quindi la città di Roma che si dice che si fa fatica con le cliniche, che la didattica, insomma, in realtà c'è stata una grandissima reazione. Quindi io da grande fan di Famularo, cosa posso dire? Sono... Guarda, mi sono entusiasta di questa cosa. Questo è il mio punto di vista, io stesso cerco di fare condivisione con il mio canale, cercare di creare relazioni tra noi musicisti, tra batteristi. Basta, non ho altro da dire. Devo fare veramente di nuovi complimenti a Gabriele, a tutti i ragazzi che sono venuti. Bellissimo. Numero uno. Ho avuto l'occasione di vedere Gabriele anni fa. E lui ha capito tutte queste tecniche. Ha una scuola fantastica. Charleston. Quello che vivrete è una grande avventura nella batteria. Ciao a tutti, per me è un onore essere qui dopo un così grande esponente della didattica mondiale, come da un Famularo, gli farei un altro applauso per ringraziare... Per questa giornata indimenticabile ho il piacere di avere fra di voi, mi sono venuto anche a trovare ieri in studio dei ragazzi da diverse regioni d'Italia che studiano con me. I due grandi filoni del ritmo sono quello binario e ternario, quelli che racchiudono i vari andamenti. Chi di voi conosce qual è quella figurazione che racchiude in sé tutte le figure principali, sia binarie che ternarie? Quindi parlo di quarti, ottavi, sedicesimi, piuttosto che sestine, piuttosto che terzine. Qual è quella figurazione che le racchiude tutte? Quella figurazione che vi tiene ancorate al binario alternario senza dovervi staccare con uno switch, magari dagli ottavi alla terzina, dalla terzina alla quartina, alla sestina e così via. Ve lo dico io, sono i quarantottesimi. Chi conosce i quarantottesimi? Mi serve un timoniere, Corrado Dado Bertonazzi ci farà da timoniere e porterà i quarti. Un applauso al grande Corrado Bertonazzi sul Charlie. Allora, quarantottesimi, che cosa significa? Cioè, quanti sedicesimi ci sono in una battuta da quattro quarti che lo dice il nome? Quanti sedicesimi ci sono? Sedici. Sedici. Quindi, quello che finisce per esimi sarebbero le note che ci sono in una battuta. Quindi, i quarantottesimi in realtà non sono altro che il raddoppio di una sestina. Quindi, sono una dodicimina, cioè quando finisce inina abbiamo quante note ci sono nella figurazione singola che vale un quarto, che copre un quarto. Quarantottesimi perché in una battuta ci sono quarantotti. Adesso Dado vi darà i quarti abbastanza lenti e portate con la mano destra una sestina. Poi aggiungerete la mano sinistra e avrete i quarantottesimi. Vai Dado. Adesso tempo. Come la vedi? Ideale. Ottimo. Adesso, per dimostrarvi insomma quello che vi ho detto, cioè che questa figurazione dei quarantottesimi contiene le figure binarie e ternarie, ok? Accentate la figurazione ogni dodici colpi, quindi solo il primo colpo e gli altri bassi. Ascoltate quello a voi che dire. Il quarto sa dove sta Dado. Fate sentire l'accento. Gli altri colpi bassi, fatemi sentire l'accento forte su dove è Dado. Ascoltate. Meglio. Adesso accentate la figurazione ogni sei colpi. Che figurazione state suonando rispetto al quarto? Gli ottavi. Ci siete? Accentate la figurazione ogni quattro colpi. Che figurazione state suonando? Eh? Che figurazione è rispetto al quarto? Ta, ta, ta. Terzina. Non di quarti, di ottavi. Una terzina. Accentate la figurazione ogni tre note. Quindi lo speaking che vi capiterà sarà a destra e a sinistra. One, e, and, and, and. Two, e, and, and. Three, e, and, and. Four, e, and, and. Ok? Che figurazione è questa rispetto al quarto? Eh? Sedicesimi. Adesso, accentate ogni due note. One, two, three, one, two, three, four, four, three, four, four, five, four, five, four, four, five, four, five. Che figurazione è questa? Questa è la sestina. avete suonato allo stesso bpm e forse per 8 10 minuti passando da figurazioni binarie a ternarie mantenendo un unico filo conduttore che quella griglia lì se io vi garantisco che questo tipo di analisi scientifica del tempo renderà finalmente ancora una volta i batteristi signori del tempo quindi la griglia che vi consiglio di approcciare all'inizio per avere tutte le figurazioni in maniera chiara e non avere uno switch un interruttore che ci porta a passare dalla terzina ai sedicesimi in modo zoppicante abbiamo adesso un minimo comun denominatore che sono i 48esimi o la 12.000 quindi un applauso a voi che avete suonato in maniera incredibile per 10 minuti allo stesso bpm grazie ad alberto nazi che ha fatto dal capo dei fratelli a bagnale per questa per questa situazione io ho la fortuna di passare del tempo perché diciamo passano dal mio circuito a roma e negli ultimi anni ho avuto la fortuna di passare del tempo con mark giuliana con jojo mayer con gavin ellison con chris coleman a cui ho avuto il piacere di aprire la 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 clinic quando era in tour come mia prima performance per sonor che la la casa di batteria che che rappresento e il tempo migliore che ho passato con queste eccellenze mondiali non è stato solo quello dietro la batteria suonando insieme ma è stata la loro visione dello studio e dell'arte nel 2019 praticamente 2020 è impensabile studiare come si studiava una volta che va anche bene ma tutto ciò che viene studiato a compartimenti stagni prima le mani poi piedi upstroke downstroke tapstroke full ok questa roba qui va messa insieme quindi dato che il livello si alza sempre di più bisogna anche effettuare delle routine di studio che ci portino a ottimizzare le cose a mettere insieme degli aspetti perché se io mi studio dieci ore di sticking di paradiddle e poi ho problemi con l'indipendenza metto in conflitto due aspetti che dovrebbero andare in realtà a braccetto chi vuole venire a fare un giochino con dei semplici sticking di paradiddle vai un applauso fra l'altro quindi accendi il quarto parti con un appstroke 1 2 3 ok ok penso di aver capito però con questo disturbo noi facendo questo ci abituiamo ci abituiamo a suonare le note con i piedi forti e con i piedi forti non solo sul downstroke cioè quando suoniamo forte anche con le mani ok ma dobbiamo saper suonare il colpo forte di cassa anche su un tapstroke faccio suonare le note che senti più o su un appstroke cioè dobbiamo avere la relazione di up tap down e full avendo sotto una bilancia ok Quindi se io faccio questo, facendo cantare sempre ogni voce che abbia groove, perché io mentre fai la cosa devo sentire gli accenti, ma devo sentire anche i pedali che mi danno un andamento cantabile, perché mettendo a posto una cosa ne mettete a posto 150, perché qua c'è il balance, qua c'è il groove, qua ci sono le tecniche del grande Dom Famularo che vanno a bilancia, quindi noi dobbiamo prendere un ambasciatore come Dom e portare avanti questa visione portando il livello dello studio nostro sempre a un livello più alto, per essere dei batteristi che nella storia aumentano sempre la qualità dell'arte che poi andiamo a fare, non so se siete d'accordo. Ok ok, questo ci vuole tempo ma devi metterti a farlo. Perché questo? Perché tu sei salito, essendo giustamente sicuro che il paradidolo è una cosa che noi padroneggiamo tutti perché siamo tutti batteristi, ma nel momento in cui ci mettiamo una controbilancia sotto che mette alla luce un altro ingrediente che è fondamentale, è crollato il castello. Ok? Quindi questo è fondamentale. Intanto ti regalo un paio di bacchette e ti dico bravo perché ci si mette in gioco come ha fatto lui. Questi sono per te. Ok? Domanda, Lorenzo, tu che hai appena suonato, che studi hai alle spalle? Conservatorio. Conservatorio? Sei diplomato al conservatorio? Ok. Questo è per avere io, io ho un diciamo piccolo foglio elettronico senza nomi, per sapere il percorso di studi e quali sono gli scogli su cui si cade, tra virgolette, ma mi ha insegnato una grande cosa Giorgio Mayer, che tu adesso questa cosa magari la vedi come un muro perché non riuscivi a farla, quindi per te era un muro. L'atteggiamento principale da avere è non farti predominare da questo terrore, ma andare indietro e accorgerti che questo muro, tu lo stai vedendo da vicino, se ti allontani diventa piccolo, è solo un gradino che tu puoi salire e ti puoi solo far migliorare. Quindi ti invito a lavorare su questa cosa qua. Va bene, grazie a te. Applausi 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 One, two Applausi Ok Applausi 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 E così via. Mettere queste bilance del tuo groove, perché se tu gestisci una cosa, anche l'altra delle mani, e non le metti in relazione vuol dire che probabilmente quando tu vai a suonare avrai difficoltà a fare questo perché vai a suonare i piatti sempre così e quando c'è la cassa suonerai sempre maledettamente forte questo tipo di cose qua ti dà tante possibilità per trovarti a suonare bene l'abstroke mentre dai un colpo di cassa o un colpo di charleston solo così lo trovi di bilanciamento sono cose che se non migliori e non entri in dei sistemi di studio perché la batteria è fatta di due cose sistemi di studio e schemi di accompagnamento se non avete nelle vostre routine i sistemi di studio e gli schemi di accompagnamento chi di voi 50 non lo farà nessuno di voi farà veramente il batterista ok? lo conoscete tutti? allora guardate cosa succede se faccio sopra uno sticking di paradisolo considerandolo sedicesimi e con i pedali crea un paradisolo però polirittmico cioè che segue il 4 sul 3 ok? qual è il tuo percorso di studi? è da quando avevo 6 anni che studio con il maestro quanti ne hai? 17 devi metterti a fare questa roba un applauso a Lorenzo quindi un conto è studiare con serietà un conto è pensare di sapere perché è facile essere convinti di sapere qua l'applauso lo potete anche fare perché è quasi impossibile Charleston Scuola di Musica se volete io sono a vostra disposizione per sviluppare qualsiasi sistema di studio avanzando su questo tipo di filosofia che vi porterà sicuramente dei risultati completi potendo bilanciare le vostre sessioni di studio mettendo in relazione tutti gli aspetti ringrazio l'immenso Don Famularo maestro Don Famularo grazie di cuore maestro Massimo Russo il maestro Tommaso Sansonetti ringrazio Claudio Lagreca di Musicarte il negozio storico e più importante di Roma per quanto riguarda gli strumenti musicali eccolo qua grazie a tutti